Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 17 gennaio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Emozioni forti alla base di un litigio. L'amicizia per voi è un bene intoccabile, infinite sono le coppie di amici storici a cui fate riferimento, da Achille e Patroclo del mito greco, a Narciso e Boccadoro, due anime in un nocciolo, direbbe qualcuno. Ecco perché, sotto effetto della luna armonica al vostro segno e in conflitto con Marte e col vostro astro guida Mercurio, il litigio con l'amico delle elementari oggi vi sconcerta forse più di una rottura amorosa. Se ad affrontarvi è stato lui o lei vi sentite vittime di un'ingiustizia terribile, se avete attaccato voi provate un senso di colpa fortissimo, che vi spinge poi a scusarvi in tono drammatico. Invidia e gelosia due bestie nere che devono restare al di fuori dai rapporti importanti, in caso di bisogno non esitate a prestare anche una somma significativa, certi di poterla ricevere da altri se nei guai ci finite voi. Sconcerto, solitudine e tristezza, la coppia non attraversa un buon periodo e il consultante si sente come schiacciato dal peso della tristezza e della monotonia. Paura di non essere ricambiati, incertezze sul partner, sospetti e gelosia. Solitudine anche per i single che resteranno inchiodati nella solitudine e nella ricerca vana di nuovi stimolanti incontri. Abbiate cura di spiegare al vostro partner meglio il vostro particolare punto di vista e cercate di chiarire alcuni aspetti della questione. Poche proposte negli ultimi tempi, potrebbero essere interessanti come quelle che potreste ricevere oggi. Se sono occasioni da prendere a volo lo deciderete da soli. Quello che conta è che vi rendiate conto che la vostra vita potrebbe cambiare. Una persona oggi vi penserà intensamente, se non immaginate chi sia, provate a concentrarvi su quello che è stato un giorno e a leggere i segnali che vi sono stati dati proprio in questo periodo. Tensioni. Scarica le energie in eccesso praticando qualche sport o qualche hobby. Oggi potrebbero esserci problemi economici che potrebbero evidenziarsi anche con multe, ingiunzioni di pagamento o prestiti da restituire. Migliorate in ogni caso le vostre relazioni con tutti quelli che potrebbero aiutarvi a risolvere il problema. In fondo è un po' che restate delusi dalle amicizie, e oggi potreste scoprire che proprio un amico o un'amica vi ha nascosto delle cose importanti. Se non riuscite più a fidarvi di questa persona non fatene un dramma, solo siate chiari e parlate con sincerità. Imparate ad essere più caute in amore. La fretta vi potrebbe spingere verso scelte sbagliate. Se qualcuno vuole farvi perdere del tempo evitatelo accuratamente e non pensateci su due volte a proseguire diritte per il vostro cammino, tenteranno infatti di mettervi il bastone tra le ruote. Giove e Nettuno oggi vi offriranno un buon aiuto per risolvere questioni di lavoro o di affari. Situazione familiare e domestica da rivisitare creando le condizioni per un rasserenamento generale dei propri cari. La luna oggi in ariete vi garantisce un comportamento fluido, vivace in ambito sociale e mondano, specie se siete nati dal 24 maggio al 2 giugno. Venere in aspetto dissonante, però vi porta a non riuscire a scegliere e cogliere appieno i tanti eventi, inviti, ricevimenti dove sarete coinvolti. Tutto questo in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 12 di giugno. La giornata tuttavia è abbastanza frizzante e stimolante e ve la godete fino in fondo. La luna in ariete frizzante, disinvolta, sportivissima, vi parla di amicizia, ma anche di competitività. A darle contro ben quattro astri, mai più importanti il vostro astro guida mercurio, dinamico e velocista, abbracciato a marte combattivo, entrambi in capricorno nella vostra ottava casa. Amore ed eros. Sulla sincerità e l'affidabilità di un amico oggi vi balla un occhio, sembra simpatico e alla mano, ma sotto sotto cova sentimenti di rivalsa e di invidia nei vostri confronti, state in guardia e soprattutto non prestategli né libri né denaro, rischiate di non rivederli. Da veri gemelli il clima di vacanza, davvero non finisce mai. Vi piace svolazzare di fiore in fiore. Tuttavia non sareste voi stessi, non sareste così adorabili senza la tendenza al flirt che vi contraddistingue. Ma quale è il genere di film che meglio si confà a questo atteggiamento mentale per voi gemelli? Ma senz'altro quello della commedia brillante. Per esempio il classico quando la moglie è in vacanza interpretato dall'icona cinematografica Marilyn Monroe è che apparteneva proprio al segno dei gemelli. Lavoro e denaro. Iniziative coraggiose in campo finanziario, gli amici possono dissuadervi oppure incoraggiarvi, dipende dalla loro visione dell'economia e dalla situazione in cui versate, sia voi che loro. Prestiti e fidi accordati, grazie all'interessamento di una persona che vi conosce bene, tra amici i soldi vanno e vengono e i piccoli prestiti rimbalzano, ma occhio che tornino anche indietro. Nessuna possibilità al gioco, oggi non siete in vena, meglio così, cominciando a eliminarlo dalla vostra vita, anche se si tratta solo di un gratta e vinci sarà buono a cos, non rischierete in futuro di diventare ludopatici. La luna vi fa accendere la classica lampadina capace di risolvere una questione lavorativa. Trovate in questa giornata un escamotage per risolvere un inghippo piuttosto spinoso che vi era capitato in ufficio nei giorni scorsi. I colleghi vi ringrazieranno poiché avete dato una grande mano anche a loro. Benessere. Svarioni ormonali, l'effetto fisico si manifesta con una tensione nervosa sopra il livello di guardia, reattività e incubi. Sonno agitato popolato da incubi, i vostri fantasmi interiori saltano fuori di notte a farsi un giretto per casa. Per lei, del vostro lui siete gelosissime e ne avete ottime ragioni, bello e piacione con me fa sempre colpo. Ma un rimedio efficace è lì pronto anche per voi, una fila di amici disposti a consolarvi. Per lui, facendo una partaccia o dando in escandescenze, non diffondete certo una buona immagine pubblicitaria di voi stessi. Consigliate un corso di autodisciplina, yoga o arti marziali vi daranno un bel aiuto. Colore delle emozioni, porpora. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 7, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.